Musica Fine settimana l'insegna della musica in centro città grazie al comitato Spezia Vivi il Centro Sì abbiamo incominciato l'8 di dicembre, abbiamo aperto con lo spettacolo il coro lirico e ringrazio il maestro Kentaro che ci ha dato la possibilità comunque di rendere anche un aspetto culturale alla città oggi la banda di Franchi e domani ci sarà il coro gospel di San Leonardo di Santo Stefano che farà diversi punti della città Ecco il Natale si avvicina, avete altre iniziative in programma? Sì sicuramente ci saranno altre iniziative, il 17, il 18 e il 23 sonore naturalmente musicali invece il 16 ci sarà la caccia al tesoro del chiodo con cui stiamo collaborando e sia il 10 e l'11, ossia oggi e domani, il 17 e il 18 ci saranno le letture delle fiabe da parte di Alessandra Cerreti e Susanna Varese all'interno delle casite con Babbo Natale Inoltre vi ricordiamo che il mercoledì pomeriggio ci sono i parcheggi gratuiti in centro e vi aspettiamo per i vostri acquisti in centro storico Grazie a tutti e buon Natale a tutti